amici barbecu mania bentornati a tutti oggi andiamo a vedere un accessorio che io personalmente e particolarmente amo parliamo della griglia in ghisa con piastra per cui abbiamo metà griglia a metà piastra per il barbecue outdoor chef la griglia è prodotta dall'outdoor chef la possiamo utilizzare su tutti i barbecue kettle dell'outdoor chef per cui tutti i barbecue a carbone e tutti i barbecue a gas kettle sempre dell'outdoor chef a cosa serve? capite da soli che quando non abbiamo molte persone a cena ma vogliamo fare una cena completa per cui cucinare amare delle verdure insieme a della carne piuttosto che doverci accontentare di avere soltanto la griglia oppure doverci barcaminare a cambiare griglia con la piastra per cui prima facciamo la carne e poi le verdure e viceversa possiamo andare a cucinare tutto contemporaneamente grazie a questo accessorio la piastra è reversibile per cui abbiamo un lato rigato e un lato liscio ecco qua la griglia in ghisa ci permette anche di ottenere l'effetto il famoso effetto grill mark e metterlo in evidenza in maniera perfetta la griglia questo accessorio qui griglia piastra in ghisa outdoor chef viene prodotto sia nelle dimensioni 47 cm che nelle dimensioni 57 cm quello che vedete la versione 57 cosa interessantissima che dovete ricordare se non avete un barbecue outdoor chef ma piuttosto avete un barbecue della web non preoccupatevi questo accessorio è compatibile come infatti chi magari è informato in questo mondo sa che molti accessori outdoor chef sono compatibili sui web come molti accessori web sono compatibili sugli outdoor chef per cui mettiamo a caso che io ho un master touch vorrei comprare questo accessorio lo potete comprare tranquillamente e metterlo a bordo del vostro barbecue master touch questo accessorio come tanti altri accessori li trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecu mania.it vi invito a seguirci sulla nostra pagina facebook barbecu mania.it vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube barbecu mania dove con i miei video cerchiamo sempre di presentarvi quali sono i nostri prodotti in vendita e cerchiamo di spiegarvi tutto quello che potete fare con il barbecue che trovate in vendita nel nostro sito internet non mi resta altro che augurare a tutti voi una buona grigliata un caloroso saluto da Emanuele al prossimo video ciao 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 ciao